Chiamo Chiara Di Loviani, sono di Vicenza e sono un'illustratrice, una designer insomma. Mi è piaciuto partecipare a Sprint perché l'ho trovata un'esperienza molto stimolante e ho raccolto molti spunti che credo mi serviranno insomma per altri progetti. Il mio rapporto con il cambiamento climatico è molto sentito nel senso che è una tematica che mi sta molto a cuore e penso insomma ci sia l'urgenza di pensarci, di parlarne il più possibile. La mia opera parla della profonda interconnessione tra gli esseri viventi, quindi non siamo solo esseri umani ma siamo proprio esseri viventi, quindi c'è un collegamento tra il mondo vegetale, il mondo animale e ciò che accade è collegato a tutti insomma, quindi è una consapevolezza, ecco parte da una consapevolezza la riflessione dell'opera. E poi c'è anche un pensiero sul modo di ripensare al nostro stile di vita, un modo che può insomma portarci al futuro. Quindi nella mia opera c'è diciamo uno sguardo che è condiviso da parte di tutti questi esseri viventi e che ci deve portare insomma un futuro positivo. La mia parola per il futuro può essere consapevolezza perché insomma diciamo che parte un po' da lì la riflessione dell'opera, quindi sì, consapevolezza.